Salve a tutti. 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 si potrebbe obiettare sempre dicendo che sia un linguaggio simbolico e metaforico. Di fatto è difficile credere che senza entrare in contatto con i greci gli ebrei avessero creduto che la Terra fosse una sfera, per questo ho voluto sottolineare il fatto che i libri di Giobbe e il secondo Isaia sarebbero stati scritti tempo dopo rispetto alle date suggerite dai TDG, nello stesso periodo in cui anche i greci avevano scoperto la sfericità della Terra. Però nulla vieterebbe in teoria che qualche ebreo avesse fatto le stesse osservazioni di Aristotele o che in qualche modo qualche israelita fosse venuto in contatto con i greci. Però è verosimile che prima dell'ellenismo non fossero venuti in contatto con i greci e quindi con l'idea di una Terra sferica. Il secondo punto del video sono le profezie. Ho già fatto un video ma credo che ne farò altri, inoltre ho accennato qualcosa anche prima. I TDG ignorano completamente gli studi filologici e storico-critici, quindi sparano date a caso, ignorando quindi la data di composizione dei libri biblici secondo gli studi più recenti, per questo fanno delle gaffe clamorose, come quella seconda cui Ciro il Grande avrebbe posto fino all'esilio degli ebrei ma è scritto dopo i fatti. Addirittura Giuseppe Flavio sostenne che Ciro avrebbe letto la Bibbia e poi sarebbe andato a liberare gli israeliti. Questo gli studiosi lo sostengono su criteri storici e filologici, non come posizione arbitraria per non ammettere che quella sarebbe stata una profezia curata. Questo lo spiegavo prima, quando dicevo che secondo gli studiosi quel capitolo sarebbe stato scritto due secoli dopo, dal cosiddetto secondo Isaia, non dal primo, che non è nemmeno detto che sia stato il vero Isaia. Per questo questa profezia sembra così accurata, mentre quella di Daniele sugli imperi mondiali è così vaga che qualunque impero esistente sarebbe potuto essere stato identificato come uno dei cinque della profezia. In seguito il video cita un versetto di Geremia che parlava anche esso della distruzione di Babilonia nel 614 a.C., ma vale lo stesso discorso con Geremia, poiché il libro che porta il suo nome è stato completato nel secondo secolo a.C. secondo gli studiosi. Infine, come terzo punto, dicono che se la Bibbia è diventato il libro più diffuso al mondo, nonostante le persecuzioni e tutte le difficoltà, si tratterebbe di una specie di miracolo. Su questo punto avrei da dire due cose. Se la gente ci crede, o meglio, soprattutto in un passato ci credeva, sia ai tempi degli ebrei che dei cristiani, è ovvio che si lottasse con le unghie e con i denti pur di diffondere e difendere la Bibbia, non fu un caso che il primo libro stampato fu proprio la Bibbia. Ma lasciatemi dire anche che non è detto che una cosa solo perché è diffusa significa che è dice vero, è valida, è buona, è bella, eccetera. Ora, per farvi un esempio, che non c'entra con la Bibbia, oggi assistiamo al fenomeno delle fake news, la gente crede a tutto e qualunque sciocchezza diventa virale e si diffonde tra la gente. Non credo che sia opportuno paragonare la Bibbia a cose come queste. Spero che il video vi sia piaciuto, per il momento è tutto, alla prossima!